Cargiver domande e risposte. Come si può evitare la sospensione di erogazione di un servizio? In ambito energia, non può essere distaccato il servizio in presenza di bonus disagio fisico. Per tutti quei clienti domestici affetti da grave malattia o i clienti domestici con fornitura elettrica presso i quali viva un soggetto in gravi condizioni di salute che utilizzino. Apparecchiature elettromedicali necessarie per il mantenimento in vita.